Assessore, quanto è importante la mensa solidale per il comune di Teramo e per i cittadini di Teramo? La mensa sociale è importantissima soprattutto in questo momento, ecco perché questo progetto abbiamo con entusiasmo subito accolto l'idea dell'Azu e della cooperativa Blue Line che si occupa appunto dell'erogazione dei pasti. E' importante perché sono tante le famiglie che anche in maniera silenziosa veramente hanno bisogno anche delle piccole cose, anche del pasto. C'è l'altra mensa che è un giocatore che comunque in qualche modo i numeri non riesce neanche a servirli tutti e comunque è aperta anche lì un paio di volte alla settimana. Avere il supporto due sere a settimana, mi pare il martedì e il giovedì così è stato deciso, dopo si vedrà anche durante, vediamo insomma nei prossimi giorni se questi giorni sono i migliori. L'erogazione dei pasti due volte alla settimana per i cittadini teramani è veramente importante. Sono tante le persone che hanno bisogno anche del minimo indispensabile e ai punti di raccolta della Caritas, tante associazioni di volontariato stanno vicino cercando di dare il più possibile dai vestiti anche al sostegno psicologico. Servizi sociali conoscono tante realtà. Dare un pasto caldo anche dopo con, immagino, con i volontari dell'università che sapranno anche regalare un sorriso e una parola di conforto sicuramente non dispiacerà ai cittadini teramani che ne hanno bisogno.